Spazio Notizia Parlando di sport, a Catania in Piazza Università si è svolta la cerimonia di apertura del Trofeo Coni Sicilia 2024 alla presenza tra gli altri del Presidente Mattarella e Ignazio Larussa. Ci racconta tutto Lucio Di Mauro. Emozione, commozione, sport. Piazza Università Catania ha ospitato la cerimonia di apertura del Trofeo Coni Sicilia 2024 alla quale hanno partecipato anche le rappresentative di base a Palermo tramite videocollegamento. Presenti per la prima volta nella storia dell'evento giunto alla non edizione estiva, le prime due cariche dello Stato, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella accompagnato dalla figlia signora Laura e il Presidente del Senato Ignazio Larussa. Una festa per la più grande manifestazione sportiva Under 14 d'Italia, in cui per la prima volta verrà segnato alla bambina e al bambino che si saranno contraddistinti per il rispetto delle regole e la capacità di leadership. Il premio Fair Play, dedicato alla memoria di Gianni Gallo, segnata dal ricordo di due leggende azzurre che ci hanno lasciato, Franco Chimenti e Lea Pericoli, ai quali è stato dedicato un minuto di silenzio. A guidare la sfinata delle delegazioni, le comunità italiane all'estero di Argentina, Australia, Brasile, Stati Uniti e Venezuela, che nei giorni successivi al Trofeo visiteranno la Sicilia alla scoperta delle proprie origini. Dietro di loro i rappresentanti dei 21 comitati ragionali del CONI, per un totale di 4.500 partecipanti, tra atleti e tecnici, cifra record. In mezzo ai giovani atleti Luigi Busà, siciliano di Avola, oro nel karate a Tokyo 2020, Manila Esposito, argento a Parigi 2024, Matteo Melluzzo, velocista siracusano, presente a Parigi 2024, e oro europeo. E lo squalo di Messina, l'ex ciclista Vincenzo Nibeli, vincitore del Tour de France e Giro d'Italia. Presenti inoltre alla cerimonia Tina e Milo, le mascotte dei giochi olimpici invernali di Milano, Cortina 2026. La fanfara dei garabinieri ha suonato l'inno di Mameli, i corazzieri hanno alzato il turicolore, poi le autorità hanno preso la parola. Sergio D'Antoni, presidente del CONI Sicilia, Enrico Trantino, sindaco di Catania, Gaetano Calvagno, presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Renato Schifani, presidente della regione siciliana, presidente del CONI Giovanni Malagò. In chiusura, Sergio Mattarella ha dichiarato aperto il trofeo CONI Sicilia 2024, affermando Grazie ragazzi, siete stati meravigliosamente in grande numero. Questa serata di apertura vi introduce in giornate di entusiasmo, che ricorderete per sempre. Esprimerete talento e amicizia. Auguri per queste giornate e per il futuro. Dichiaro aperto il trofeo CONI. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di agricoltura, di un bando della PNRR per la modernizzazione dei macchinari agricoli. Sono state ammesse a finanziamento 949 imprese siciliane per un totale di 21 milioni di euro, ma per i dettagli vediamo il servizio. Sono 949 le aziende agricole siciliane ammesse al contributo per l'ammodernamento dei macchinari che permetteranno l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione, così come previsto dal bando pubblicato a dicembre 2023 dal Dipartimento regionale dell'Agricoltura nell'ambito della PNRR Investimento 2.3 Innovazione e Meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare. Gli investimenti consistono nell'acquisto di attrezzature per le tecniche di precisione, sostituzione di veicoli fuoristrada, innovazione di sistemi di irrigazione e gestione delle acque e daranno una spinta in chiave innovativa all'agricoltura siciliana verso la modernizzazione della produzione. Rispetto alla graduatoria provvisoria, nell'elenco definitivo è stato incrementato, sino a 949, il numero di istanze ammesse alle agevolazioni finanziarie. Conseguentemente anche il budget concesso è passato da 17, a fronte di 757 domande inizialmente accolte, a 21 milioni di euro. Si tratta di fondi del PNRR, stanziati dall'Unione Europea col programma Next Generation e assegnati alla regione siciliana. Sono 44 invece le istanze non ammesse. Restiamo in tema, parliamo ancora di agricoltura. Un altro bando per aziende agricole, destinato in questo caso a donne e giovani, domande per 170 milioni di euro. Vediamo il servizio. Chiuso il portale Ismea per presentare domanda per accedere alle agevolazioni di più impresa, la misura che finanzia progetti di sviluppo di giovani o donne che subentrano nella conduzione di un'azienda agricola esistente o intendono ampliare la propria impresa. Anche quest'anno le richieste superano di gran lunga la dotazione finanziaria prevista. A fronte di uno stanziamento di 60 milioni di euro, fa sapere l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, sono state registrate domande per un valore di oltre 170 milioni di euro di investimenti da realizzare. Le richieste riguardano per il 56% progetti di imprenditoria giovanile, per il restante 44% iniziative di imprenditoria femminile. Veneto-Piemonte e Trentino-Alto Adige sono le regioni maggiormente rappresentate davanti a Emilia-Romagna, Sicilia, Puglia e Toscana e seguite da altre regioni. Il portale Ismea è stato aperto per la fase di convalida delle domande il 5 settembre ed è stato chiuso alle 18 del 30 settembre. Le domande saranno istruite, secondo l'ordine cronologico di presentazione, dopo una preliminare verifica di ricevibilità. Dall'Unione Europea è arrivato un'importante via libera per quanto riguarda il sostegno agli apicoltori siciliani colpiti dalle crisi climatiche. Vediamo di che si tratta nel nostro servizio. Sostegno nelle spese relative ai danni provocati dalle crisi climatiche prolungate a vantaggio di apicoltori italiani per garantire la sopravvivenza dei loro alveari. È arrivato il via libera di una misura attesa dal settore, con l'ok da parte della Commissione dell'Unione Europea alla modifica del piano strategico italiano della PAC 2023-2027. L'alimentazione di soccorso entra infatti fra gli interventi ammissibili al contributo dell'Unione Europea. Gli interventi sono dunque ammissibili per il contributo del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia. È un risultato molto importante, arrivato dopo un lungo lavoro di negoziazione con Bruxelles, commenta il sottosegretario all'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, Luigi Deramo. Una misura richiesta e attesa da tempo dalla filiera che in questi ultimi anni è stata messa a dura prova dagli effetti del cambiamento climatico. Un'ulteriore dimostrazione della centralità che ha per noi questo settore, che consideriamo strategico sia da un punto di vista economico sia ambientale. Nell'ambito delle risorse comunitarie destinate agli interventi che interessano in particolare la filiera apistica e che nel quinquennio 2023-2027 ammontano complessivamente circa 25 milioni di euro, ci sarà dunque anche l'alimentazione di soccorso tra le azioni di prevenzione dei danni causati da avversità atmosferiche a fianco a quelle di contrasto contro gli aggressori degli alveari e per il ripopolamento. Dagli oncologi italiani è arrivata una precisa richiesta al governo, quella di aumentare di 5 euro il costo di un pacchetto di sigarette. Con il ricavo si può anche sostenere il sistema sanitario nazionale. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. Aumentare il prezzo delle sigarette di 5 euro al pacchetto, una tassa di scopo con due obiettivi. Disincentivare l'abitudine al fumo, che è la causa del 90% dei casi di tumore al polmone, e al contempo sostenere con il ricavato il servizio sanitario nazionale. E questa è la richiesta dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica, IOM, che in conferenza stampa al Senato ha presentato la campagna SOS Tenere SSN, promossa da IOM, Fondazione IOM e Panorama della Sanità. Pieno appoggio da parte della vicepresidente del Senato, Maria Domenica Castellone, che ha annunciato che presenterà un emendamento in questa direzione nella prossima legge di bilancio. Chiediamo alle istituzioni di approvare una tassa di scopo. L'obiettivo, ha spiegato il presidente IOM, Francesco Perrone, è ridurre il consumo di tabacco e disporre di ulteriori risorse, fino a 13,8 miliardi, da destinare al finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale. Il tabagismo è un fattore di rischio anche per altre neoplasie, per malattie cardiovascolari e respiratorie. Secondo le stime IOM in Italia sono attribuibili a questa cattiva abitudine oltre 93 mila morti ogni anno, con costi pari a oltre 26 miliardi di euro. In Italia sono pari a quasi 40 mila i nuovi casi di tumore al polmone nel 2023. Il 24,5% degli adulti tra i 18 e i 69 anni fuma, una cattiva abitudine sempre più diffusa, soprattutto nelle donne, a cui corrisponde un progressivo aumento della mortalità per carcinoma polmonare. Nel periodo 2007-2019 nelle donne è stato documentato un eccesso di 16 mila 36 morti per carcinoma polmonare, il 16% in più di quanto atteso. Oggi il 75-80% dei casi è diagnosticato in fase avanzata, il che implica ridotte probabilità di guarigione, costi elevati a livello individuale e sociale e un significativo impatto sulla sostenibilità del sistema sanitario nazionale. Da questo quadro prende le mosse la campagna SOS Tenere SSN che mira a sostenere il servizio sanitario nazionale e sensibilizzare dunque i cittadini e le istituzioni sui danni del fumo. L'obiettivo è aumentare di 5 euro il prezzo dei pacchetti di sigarette, una tassa di scopo che può generare fino a 13,8 miliardi da destinare immediatamente al finanziamento del sistema sanitario. Paesi come la Francia hanno già modificato il prezzo di vendita che oggi si aggira sui 12 euro per le sigarette e anche in America hanno stabilito costi alti intorno agli 8 dollari. La campagna vedrà la nascita di un sito dedicato, di un opuscolo scaricabile e di uno spot con il coinvolgimento di istituzioni e testimonial. C'è un progetto che vede i protagonisti, gli animali, in questo caso cavalli e cani, come terapia. Aiutano a placare ansia e stress e contribuiscono a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari e a facilitare i rapporti sociali. Sono gli animali da compagnia, in particolare cani e cavalli, sempre più spesso coinvolti in interventi di pet therapy. A fare il punto, in occasione della giornata mondiale degli animali, sono gli esperti del Centro di Riferimento per le Scienze Comportamentali e la Salute Mentale dell'Istituto Superiore di Sanità con il progetto Veterani in Sella. Lo studio, in collaborazione con lo Stato Maggiore dell'Esercito, è uno dei primi a livello europeo a focalizzarsi sulla salute mentale dei veterani, dal quale è emerso che la relazione con un cavallo può aiutare anche nella gestione dei disturbi da stress post-traumatico. Sono stati arruolati un gruppo di veterani per un intervento della turata complessiva di nove mesi, durante i quali è stato effettuato un monitoraggio e la valutazione del benessere psicofisico. I risultati hanno evidenziato miglioramenti nelle attitudini e nei comportamenti dei partecipanti, in autonomia, fiducia nelle proprie capacità, ma anche nella gestione dell'ansia e del superamento delle difficoltà interpersonali. Il cane e il cavallo, spiega Francesca Cirulli, dirigente di ricerca del Centro di Riferimento per le Scienze Comportamentali e la Salute Mentale dell'Istituto Superiore di Sanità, sono nel complesso gli animali maggiormente coinvolti negli interventi assistiti con gli animali, poiché condividono con l'uomo una lunga storia di coevoluzione che ha consentito loro di sviluppare un sofisticato sistema di comunicazione non verbale, che è alla base della loro capacità di interagire con il sistema emozionale umano. La relazione con il cane può essere un aiuto valido in patologie che hanno come ambito la salute mentale, al fine di ridurre sintomi di ansia, depressione o solitudine. La sollecitazione motoria ritmica fornita dal cavallo invece lo rendono un importante ausilio in pazienti con disturbi motori o posturali, ma anche in patologie psichiatriche complesse con effetti benefici su funzioni adattative ed esecutive del cervello. Parliamo ora dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e di un piano globale contro le malattie provocate dalle zanzare. I casi di dengue sono aumentati nel mondo e si stima che 4 miliardi di persone siano a rischio di infezioni trasmesse dalla zanzara tigre, un numero che aumenterà fino a 5 miliardi entro il 2050. Nasce da questi numeri l'urgenza del Piano Globale Strategico di Preparazione e Risposta alla Dengue e ad altre arbovirosi, lanciato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il piano richiede un investimento di 55 milioni di dollari e mira a promuovere una risposta coordinata attraverso 5 azioni prioritarie, dai test al controllo dei vettori fino alla ricerca. La febbre dengue è endemica in oltre 130 paesi, soprattutto quelli caratterizzati da climi tropicali e subtropicali, nel sud-est asiatico, nel Pacifico occidentale, nelle Americhe, oltre che in Africa. A dicembre 2023 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato l'attuale impennata globale della Dengue come grado 3, il livello più alto di emergenza. Fattori come l'urbanizzazione non pianificata e le cattive pratiche idriche e igienico-sanitarie, i cambiamenti climatici e i viaggi internazionali stanno facilitando la rapida diffusione geografica di questa e altre malattie arbovirali, come Zika e più recentemente del virus Oropuche. Il piano comprende 5 componenti chiave per una risposta efficace, il coordinamento delle emergenze, la sorveglianza collaborativa con diagnosi precoce, analisi epidemiologiche, la protezione delle comunità tramite il coinvolgimento attivo, una gestione clinica efficace per garantire che i pazienti possano ricevere cure adeguate e infine la promozione della ricerca per i trattamenti migliori e vaccini efficaci. La rapida diffusione di dengue delle malattie trasmesse da Zanzara a Edes è una tendenza allarmante che richiede una risposta coordinata tra settori e oltre i confini, ha affermato il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Salute. Tutti, ha aggiunto, hanno un ruolo da svolgere nella lotta e questo piano è una tabella di marcia per proteggere le popolazioni vulnerabili e spianare la strada a un futuro più sano. Per il momento è tutto, a più tardi per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia.